Salve a tutti ragazzi, eccoci tornati su un nuovo gioco. Stiamo parlando di Cyber Hunter, un gioco che uscite ne è stato. Che sto provando qui in gioco a voi. Che già ho provato, ma come ha detto in alto e sinistra, sono 15 persone e un studio fatto. E' una moto buona. E' un' un'unico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.